Andrea Passacantando, presidente della Copagri Marche, 843 strutture, più di 1300 posti letto, questo agriturismo marchigiano è ripartito alla grandissima. C'è questa tendenza, siamo veramente molto contenti perché è un settore che è veramente nevralgico e strategico per le nostre imprese agricole, ma non solo per tutto il territorio. Le marche ricche di strutture agrituristiche sono sempre più innovative, sono sempre più vicine ai consumatori, l'ambiente fa la prodona, il buon cibo e poi noi abbiamo anche la fortuna di avere anche un agriturismo stellato, quindi si è abbinato l'ambiente, il buon cibo, anche l'alta cucina. Sono tutte cose che sembrano facili a dire ma sono difficilissime a conquistare e deve essere anche un po' da sprono per tutte le altre strutture per innalzare il livello di qualità. I turisti, soprattutto gli stranieri, cominciano a amare le nostre marche, cominciano a amare le nostre strutture, quindi dobbiamo essere pronti a riceverli e soprattutto a farli innamorare nel nostro territorio perché poi sono loro i prossimi ambasciatori della nostra regione. L'Agritur Fest si è concentrato sicuramente sulla qualità del prodotto e anche la cucina che vediamo a Piazza Roma, ma anche appunto sull'accoglienza che sembra un po' il tema principale per fare il passetto in avanti per quanto riguarda tutti gli agriturismi. Noi vorremmo cercare di dare servizi nuovi alle strutture perché talvolta ognuno, come si dice, è un po' autodidatta, invece anche lì sulla formalità, sull'ospitalità occorre avere anche un po' un senso, delle regole, bisognerà essere uniformi perché il territorio non è solo una provincia, un comune, ma è tutta la regione, quindi dovremmo un po' imparare a formarci e quindi ad essere un po' uniformi anche nel proporre le nostre eccellenze. Noi cerchiamo di farlo, lo proponiamo, da Lascoli Piceno abbiamo iniziato questo cammino, poi arriveremo su tutte le altre province della regione e parleremo anche di altri temi, qui parliamo di ospitalità, i prossimi temi saranno sulla digitalizzazione, i prossimi temi saranno sui servizi aggiuntivi alle strutture che devono e come possono fare l'attività in qualsiasi modo, soprattutto con le innovazioni e tantissime altre cose, quindi gli aspetti da centrare e da focalizzare sono tantissimi e cercheremo di farlo step by step su questo percorso itinerario che speriamo che poi di replicare a livello nazionale. Con Enrico Mazzaroni che è lo chef dell'agriturismo Il Tiglio, il primo agriturismo marchigiano con una stella Michelin, il secondo in Italia. Sì sì, è stato un lavoro duro e imperituro, nel senso che noi abbiamo sempre voluto la stella Michelin con alti e bassi, non sapendo dove andare, non sapendo come fare, insomma con tantissime difficoltà e con tantissimi dubbi. Quando avevamo un po' imbroccato la situazione avevamo capito anche perché far convivere le due anime di agriturismo e stella Michelin sono due cose molto difficili e devo dire che fino a qualche tempo fa la Michelin non prendeva nemmeno in considerazione gli agriturismi, quindi il fatto che l'abbia fatto già una volta, quindi l'aveva già fatto nel 2017 mi pare, ci aveva aperto un mondo e ci aveva aperto una possibilità. Quando siamo tornati a Montemonaco dopo i due anni di mare, due anni di Porto Recanati per il terremoto abbiamo ricominciato, sono stati tre anni durissimi devo dire, alla fine siamo riusciti in questo intento. Vi sentite sulla punta di una piramide o comunque una guida per le altre marchigiane? Per quello che riguarda gli agriturismi, non certo per quello che riguarda i ristoranti, vogliamo dare un messaggio chiaro, quello che la qualità e l'alta qualità la può fare assolutamente anche un agriturismo con un vantaggio direi, quello di avere le materie prime autoprodotte, che in questo mondo è importantissimo. Ricordo che anche la Michelin ha instaurato da qualche anno la stella verde, che è la stella che riguarda l'ecosostenibilità. Quindi siamo onorati di poter essere sulla punta di questa piramide e di dare agli altri l'esempio che le cose fatte bene, perché poi alla fine bisogna che te le confermino gli altri le cose fatte bene, anche se tu le fai da un secolo, da una vita, purtroppo quando arrivano certi riconoscimenti è come se fosse una medaglia, cioè come se fosse comunque un punto di arrivo, che poi può essere di partenza, ma sicuramente un punto di arrivo per il tuo lavoro. Quindi se siamo di ispirazione, se siamo di conforto per quelli che magari stanno avendo la difficoltà, se siamo su questa punta di questa piramide, ne siamo felici e speriamo di fare del nostro meglio per dare l'esempio. L'agriturismo è fondamentale e strategico per la Regione Marche per una serie di motivi. Allora innanzitutto perché l'agriturismo è sostanzialmente un'azienda agricola che attua una competenza di multifunzionalità, quindi non fa solo l'azienda agricola ma fa anche altre cose tra cui l'agriturismo. Quindi l'agriturismo si occupa di allevamento, si occupa di coltivazione della terra, quindi contribuisce in maniera importante proprio alla produzione agricola regionale. Poi l'agriturismo è importante perché valorizza i prodotti della terra, quindi sappiamo quanto sia fondamentale produrre e promuovere le eccellenze. Noi nelle Marche ne abbiamo tantissime attraverso una biodiversità così diffusa sul territorio. E poi l'altro aspetto è la qualità dell'accoglienza. L'agriturismo fa accoglienza e sappiamo quanto sia anche qui fondamentale, soprattutto per un turista, per chi visita un'azienda agricola, un agriturismo, avere anche un buon ricordo attraverso un'accoglienza di qualità di quell'agriturismo, quindi del territorio, perché poi quando ritorna, rientra a casa, diventa un testimonial importante perché ha vissuto un'esperienza positiva anche grazie a un'accoglienza di qualità. Quindi valorizzazione dei prodotti e contributo alla coltivazione, all'allevamento, quindi all'ecosistema agricolo della regione. Ricostruire è uno dei primi impegni del commissario, il principale. Poi però contestualmente dobbiamo anche riattivare tutto ciò che dal punto di vista economico e sociale è necessario perché le case, una volta ricostruite, speriamo nel tempo più breve possibile, non rimangano drammaticamente vuote. Da questo punto di vista abbiamo messo in campo una strategia specifica, next appennino, così l'abbiamo chiamata, che ha proprio questo scopo. Recentemente sono state approvate le graduatorie per quanto riguarda i bandi che hanno fornito uno stimolo economico ai diversi livelli di impegno economico, fra questi anche gli agriturismi e più in generale il turismo enogastronomico, che è uno degli asset più importanti, significativi, che cerchiamo di rafforzare per poter migliorare complessivamente lo sviluppo del cosiddetto cratere. C'è necessità che tutte le istituzioni si coordinino in maniera tale e che tutti remino verso la stessa parte, esattamente come ha voluto oggi dirci, ammonirci per certi versi i Copagri, che ringraziamo per questa splendida iniziativa. A livello turistico gli agriturismi diventano importanti, ma diventano importanti anche la qualità dei prodotti che gli agriturismi mettono sui loro piatti, la qualità della vita all'interno delle comunità dove loro risiedono. Ecco perché con la regione Marche dovremo trovare insieme all'ATIM, l'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione, tutti quei momenti per metterci insieme e valorizzare questi progetti. Lavorando in squadra, tutti insieme, e ascoltando la base, ovvero gli imprenditori e le associazioni di categoria, metteremo in campo quei progetti che veramente fanno ritornare le Marche in quest'estate tra le migliori regioni che noi abbiamo a livello turistico nel centro Italia. Con il brand unico e destinazione turistica Mete Picene, che la cronica vuol dire musei, esperienze, territori ed eccellenze, abbiamo messo in rete 86 musei del territorio dei 33 comuni della provincia di Ascoli Piceno. Abbiamo creato un brand Mede in Piceno di tutto quello che è l'enogastronomia, tutti i prodotti enogastronomici e artigianali del nostro territorio Mede in Piceno e naturalmente la parte turistica con Mete Picene. Mete Picene che racchiude tutti gli agriturismi di cui oggi ne abbiamo parlato, il primo festival creato da Copacri e quindi siamo orgogliosi di questo e ringraziamo per averci aperto un attimino gli occhi su questa strategia che loro stanno portando avanti perché poi l'agriturismo è un valore aggiunto per i territori, specialmente per i territori dell'entroterra, ma comunque gli agriturismi, oltre che a valorizzare le loro strutture, valorizzano anche i nostri prodotti enogastronomici perché questo è quello che vogliamo. Sicuramente gli agriturismi possono svolgere un ruolo estremamente importante perché andiamo con questo tipo di turismo a colpire nei mercati che sono i più congeniali a noi, quindi penso al mercato tedesco, al mercato olandese per arrivare poi fino ai paesi scandinavi. Il territorio è legato sempre al prodotto che questo territorio produce e che quindi si può comunque sia esportare dal punto di vista pratico sia utilizzare per fare promozione dei nostri territori. E quindi l'agriturismo, il vino, l'enogastronomia sono tutte quante eccellenze formidabili delle Marche e aver fatto l'accordo quindi anche Copacri-Novasol significa aprire il mercato del turismo delle Marche ad un grande tour operator che saprà sicuramente vedere, verificare qual è la grande forza del turismo marchigiano, quali sono le nostre eccellenze e quindi farà sì che le Marche diventino un protagonista in questo segmento. Dopodiché siamo ben lieti di partecipare a questo tipo di eventi perché Nerea è sempre stata molto attenta alle ricadute che ha a livello economico, sociale e ambientale sul territorio nel quale insiste, per cui ci sentiamo sempre in obbligo e in dovere di aiutare, stimolare e partecipare alle iniziative che hanno l'obiettivo di promuovere il territorio anche perché sappiamo che negli ultimi anni i nostri territori hanno avuto delle difficoltà fortissime, hanno bisogno di ripartire, hanno bisogno di incentivi per poter rimettere in moto quello che è il tessuto economico e sociale del territorio stesso e secondo noi gli agriturismi sono un punto di partenza ideale per fare questo. Grazie! Grazie!